Buon pomeriggio, sono Nicoletta Di Blasi, la direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura di Hamburgo. Mi unisco al ringraziamento e al saluto della dottoressa Maria Mazza, direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura di Colonia, capofila di questo splendido progetto, una rassegna che attraversa cinque grandi maestri della storia dell'arte italiana. Saluto i nostri partner, il dottor Himrich della Società Italo-Tedesca di Düsseldorf e la Federazione delle Associazioni Italo-Tedesche in Germania. Do il mio più caloroso benvenuto al dottor Francesco Di Ciaula e al nostro pubblico, al nostro pubblico che ci segue ormai con affetto e con interesse, che ringraziamo per volerci sostenere in questa fase ancora così complicata e dura per la cultura e per gli eventi culturali. Do il mio benvenuto al dottor Di Ciaula, che il nostro pubblico ormai conosce bene. Il dottor Di Ciaula, come sapete, è uno storico dell'arte, formatosi tra Siena e Firenze, con una carriera molto solida alle spalle nella curatera museale. Tra le sue curatelle più importanti ricordo il nuovo allestimento della Cattedrale di Firenze e il Castello Svevo di Barletta. Come ormai sapete, il dottor Di Ciaula ci accompagna alla scoperta di alcune delle personalità più emblematiche della storia dell'arte italiana ed oggi ci accompagnerà con Tiziano Veccellio, un gigante della storia dell'arte italiana che ha profondamente segnato la storia dell'arte veneziana e quindi italiana e quindi europea e non solo, ha segnato una profonda trasformazione nel processo di autorappresentazione degli artisti, dei rapporti con la committenza, nonché con l'organizzazione di tipo imprenditoriale della sua bottega e del fare artistico. Ma per tutto questo io vi lascio nelle ottime mani del dottor Di Ciaula, che ancora ringrazio. Ovviamente non prima di avervi ricordato i prossimi appuntamenti, il 20 maggio saremo in compagnia di Caravaggio e il 24 giugno concluderemo questo splendido viaggio con Tiepolo. Quindi non mi resta che augurarvi buon ascolto e ringraziare ancora una volta il dottor Di Ciaula per questa splendida rassegna. Grazie. Grazie dottoressa Di Blasi per le sue belle parole. Mi unisco ai saluti appunto che abbiamo adesso poco fa annunciato. sicuramente una conferenza su Tiziano dopo aver affrontato la scuola fiorentina del Rinascimento con Botticelli e Michelangelo ci pone in una realtà pittorica molto diversa e che è parte del grande patrimonio dell'arte italiana che quindi in qualche modo si snoda parallelamente alla scuola fiorentina e la scuola romana che poi è succedanea di quella fiorentina e quindi diventa la nuova grande scuola della pittura, del Rinascimento. In questo caso però noi affrontiamo cosa? Affrontiamo una tematica molto interessante che è sempre relativa un po' al ragionamento filosofico, allegorico, artistico del nudo, della figura umana. che in tutto sommato il Rinascimento ha ridato valore, importanza a questo aspetto della vita terrena, quindi dell'umanità come corpo, come rapporto col mondo. Tiziano è forse dopo Raffaello il più grande, grande, grande pittore della nudità, soprattutto della nudità femminile. Sulla scia proprio di Raffaello, che è il grande emancipatore del nudo femminile, dopo quella parentesi estetizzante di Botticelli e le sue veneri, in realtà poi Raffaello nell'esperienza romana che ridà vita a questo mondo mitologico, meraviglioso, solare, positivo. È molto, molto, come dire, legato alla bellezza femminile in particolare, laddove Michelangelo insisteva su questo tormento del corpo maschile. E quindi Tiziano eredita in qualche modo proprio questa capacità di narrazione dell'estetica femminile. Ora andiamo a condividere un po' le nostre immagini. Ecco, partiamo da un grandissimo, celebratissimo capolavoro che in realtà non è di Tiziano, lo è in una parte, che è questa venere dormiente della Gemelle de Gallerie di Dresda del 1512, che appunto raffigura questa meravigliosa venere addormentata in questo paesaggio tipicamente ispirato alla pittura tonale che crea Giorgione, il grande pittore, il primo grande pittore che si affaccia al Cinquecento del Veneto, e che crea proprio questa pittura che è stata definita tonale perché in qualche modo non agisce tanto sul disegno, ma sull'accostamento di masse cromatiche che creano questa sensazione di pulviscolo, di rarefazione, e che è proprio tipico, poi sarà proprio tipico, fondamentale della pittura veneziana, della pittura veneta in generale. Questa venere, che è una venere meravigliosa, perché in qualche modo è un nudo placido, un nudo che si stende diagonalmente su questo paesaggio col quale si fonde, quindi Giorgione insiste su questa fusione tra l'uomo e la natura, questa fusione molto lirica, molto poetica e soprattutto molto enigmatica, cioè molto, come dire, che ha degli elementi di enigma, appunto di meditazione sul senso dell'esistenza, sul senso del mondo. Quindi Giorgione è un pittore molto, come dire, lirico in questo senso. Infatti questo è un nudo femminile che in realtà non ha una sensualità prorompente, non ha una sensualità accesa, è più che altro un nudo che esprime appunto un rilassamento nella natura, quindi un rapporto naturale, un rapporto, come dire, di fusione poetica. Però cosa succede? Che Tiziano, che poi tra l'altro non è documentato diciamo come allievo di Giorgione, però è un artista che si forma molto sulle opere di Giorgione, tant'è che lui nella sua attività, nella sua formazione, nei suoi primi anni, quindi parliamo degli anni Dieci, del Cinquecento, riprende proprio delle tele come questa che Giorgione non aveva completato, che Giorgione aveva, soprattutto nell'ultimo periodo, non aveva lasciato interrotte alcune opere, tra le quali questa. E infatti cosa notiamo di diverso già in questo grande capolavoro di Dresda? Notiamo che questa Venere si adagia, si addormenta placidamente, qui l'abbiamo detto senza nessuna allusione, come dire, erotica fino a se stessa, però si addormenta su questo elemento di letto, di lenzuola, di tessuti, che in realtà parla già un altro linguaggio, perché, come dire, è descritto con un risalto di riflessi cromatici, di riflessi materiali, quindi in qualche modo parla un linguaggio diverso da questo tonalismo soffuso, è in qualche modo più realistico. Quindi Tiziano, già dall'inizio, tende ad essere molto più attento al dettaglio realistico che a quello poetico, che a quello tonale di Giorgione. Infatti questi colori, questo bianco e rosso, questi riflessi bellissimi della seta, di questo drappeggio setoso, che con la luce riflette in guizza rispetto all'illuminazione, è già un primo segno della pittura di Tiziano rispetto al suo maestro ispiratore Giorgione. E questo è già un dato che ci fa capire come Tiziano, partendo da questa visione poetica, da questa visione lirica del nudo naturale, il rapporto col mondo, con la natura, una natura molto placida, molto, come dire, davvero poetica, davvero serena, in realtà poi arriverà a dei risultati diversi. Ecco, questa è la famosa tempesta appunto di Giorgione, un quadro documentato di Giorgione, dove appunto si esprime questo concetto di cui stavamo parlando, quindi di questa natura dolce, però allo stesso tempo anche enigmatica, infatti questa tempesta, che il titolo tempesta è stato dato da questo improvviso lampo nel cielo nuvoloso, però appunto è una natura descritta per accostamenti di colore, di masse molto fluide, e soprattutto per la presenza di queste figure umane, che in qualche modo sono figure, anche se in un'unica enigmatica, perché si adagiano in questi paesaggi senza un significato che noi possiamo cogliere. Infatti, in Giorgione è molto forte il concetto dell'allegoria rispetto a quello che sarà Tiziano. Ecco, e qui, in questo altro grande capolavoro giovanile di Tiziano, che è stato poi attribuito a Tiziano, il famoso concetto campestre del Louvre, di nuovo si riaffaccia questo tema, questo confronto con la pittura di Giorgione, quindi con questo punto di arrivo della pittura veneta dell'inizio del Cinquecento, quindi con questa esaltazione del paesaggio come scenario emotivo, come contemplazione poetica della natura, dove poi queste figure però, come vediamo, iniziano a risaltare maggiormente. Vediamo questi bellissimi nudi, appunto, femminili, che in qualche modo iniziano ad avere più struttura rispetto a quelli di Giorgione, e infatti questo è proprio un altro di quei dipinti che si ritiene non finiti da Giorgione, che invece poi sono stati completati da Tiziano. Questo è appunto che si riferisce a questo concerto molto bello, molto anche moderno, come idea di giovani che si fermano su un prato a suonare insieme delle melodie molto, come dire, molto bucoliche. E qui il dato, ecco, che in qualche modo noi vediamo di novità è di nuovo questa, da un lato questa fusione, ancora molto forte col paesaggio, però ancora con dei dettagli, come vediamo questa bellissima manica del giovane che suona questa mandola, molto bello, di nuovo questo gioco di luci, di riflessi materici, molto, molto, che risaltano molto nel contesto di un paesaggio soffuso, e soprattutto questi nudi che iniziano a essere dei nudi con un'anatomia un po' più presente rispetto a quelli di Giorgione. Ecco, questo è, diciamo, in realtà il primo quadro che si intitola Le tre età dell'uomo. Tenete conto che poi questi titoli sono stati tutti attribuiti in età moderna, perché in realtà non sappiamo esattamente cosa raffigurano. Perché le tre età dell'uomo, perché vediamo questi putti addormentati sulla destra, questa bellissima coppia di giovani che si guarda, innamorata, e questo vecchio sullo sfondo con i teschi nelle mani che allude alla vecchiaia la morte, quindi si è pensato essere un'allegoria delle tre età dell'uomo. Ed è un dipinto della National Gallery of Scotland. Questo è il primo dipinto autonomo di Tiziano, quindi siamo nel 1512, che in qualche modo scuote questo schema giorgionesco, diciamo, di nudità, come dire, soffusa, di nudità poetica, di nudità contemplativa, rassicurante, ed entrano in gioco degli elementi diversi. Per esempio, questa coppia di giovani che si guarda in maniera romantica, in maniera amorosa, che si studia, come dire, a livello anche psicologico, e soprattutto questo nudo maschile che inizia a essere un nudo diverso dal nudo giorgionesco, perché è un nudo molto più studiato anatomicamente, come è più in risalto per la figura femminile tutti in una serie di dettagli, come il colore dei capelli, il biondo dei capelli, questa corona di fiori, di nuovo questi indumenti che indagano nel dettaglio della loro composizione, della loro fattura, e soprattutto elemento importante è la presenza dei putti. Perché in Giorgione non esiste mai l'allusione all'eros mitologico, non esiste questa sfera del mito. E che succede? Che in realtà Tiziano si allontana da Giorgione. Perché? Perché lui incontra chiaramente i grandi maestri, non li incontra personalmente e neanche perché lui aveva viaggiato a Roma, ma l'incontro attraverso la diffusione delle incisioni e dei quadri che viaggiavano nell'Italia settenzionale dei grandi maestri, dei grandi maestri del tempo che erano Raffaello e Michelangelo. Ecco, nel dettaglio vediamo a sinistra un nudo raffaellesco conservato agli uffizi, a destra un putto del Tyler's Museum di Harlem, che sono gli elementi un po' tipici di Raffaello. Quindi questa grande capacità di disegnare, questa grande predominanza del disegno e soprattutto del disegno anatomico, che come Michelangelo Raffaello era un grandissimo disegnatore di nudi. E qui a destra, diciamo, un altro di questi disegni che potevano viaggiare in quel periodo erano quelli proprio dei putti raffaelleschi. Come ho spiegato nella conferenza registrata in occasione del Cinquecentenario, dalla morte di Raffaello, Raffaello era ossessionato da questa raffigurazione dei putti classici. E appunto, quindi come vediamo anche questo disegno del British Museum, del famoso Adamo di Michelangelo, questa insistenza sulla capacità di rendere la muscolarità del corpo maschile, il senso anatomico della forza del nudo maschile. Quindi diciamo, Tiziano prende da questi due grandi artisti questo interesse soprattutto nel riprodurre delle esatte anatomie rispetto a Giorgione che era molto più morbido, più soffuso in questo aspetto. Arriviamo nel primo davvero grande capolavoro di Tiziano documentato che è l'amor sacro, amor profano del 1515 della Galleria Borghese di Roma che però appunto il cui titolo non è così sicuro è una appunto è stato uno dei possibili titoli che Tiziano aveva in mente nel momento della stesura di questo dipinto perché abbiamo queste due diciamo figure che possono essere due veneri quindi una venere terrena una venere celeste in realtà sembra molto più probabilmente un dipinto di origine nuziale dove la figura di sinistra è la sposa sembra la sposa del cancelliere del gran cancelliere di Venezia di quel periodo e a destra in realtà e non è altro che la venere che guarda come dire con grande languore verso questa sposa augurandole la fertilità questa lettura è come dire in qualche modo appanorata dal fatto che questa figura vestita ha tra le mani questo bacile che è uno degli elementi del corredo nuziale legato al parto ecco qui gli elementi iniziano questi elementi romani iniziano ad essere più chiari perché abbiamo questo bellissimo sarcofago fontana dove questo punto di origine raffaellesca gioca con l'acqua inserisce le mani nell'acqua quindi questo anche qui un concetto probabilmente allegorico della fertilità dell'acqua del concetto della fertilità e della natura che crea questo meraviglioso motivo per esempio della figura vestita a sinistra di questa figura femminile che ha in mano la mano destra cinge questi fiori quindi elemento anche qui legato alla fertilità della natura e della bellezza e soprattutto questo abito è un abito ecco che rispetto a Giorgione come vediamo inizia a emergere questo dato stilistico tizianesco che è proprio questa capacità di rendere i tessuti soprattutto in questo sfolgorante luminismo in questa capacità di rendere questa bellezza estrema dei tessuti che tra l'altro faceva un po' il pari con questo senso di ricchezza dell'elite veneziane che sappiamo città potentissima all'inizio del Cinquecento che dominava su territori che andavano dall'Oriente all'Occidente quindi di una classe politica mercantile di grandissimo lusso e questa figura a destra che è appunto questo uno dei primi nudi prettamente tizianeschi questa Venere che ha questo panneggio rosso tra l'altro il rosso tiziano diventerà famoso come colore della passione della pittura veneziana questo panneggio che si muove che sembra quasi alimentato mosso dal vento e quindi che assume questo movimento verso l'alto sul quale si riflettono queste luci appunto sempre molto di grande capacità luministica e questa bellissima donna che in qualche modo riflette quel senso di liberazione diciamo dell'undo femminile che aveva operato Raffaello però prima di arrivare a Raffaello volevo ricordare che in realtà questo gusto per la luce per i riflessi dei tessuti della pittura veneziana risalgono a Giovanni Bellini infatti in questa Madonna del Bambino del 1510 di Brera Giovanni Bellini in qualche modo ripropone già verso la fine del 400 inizio del 500 questo sicuramente questo senso del paesaggio che è sempre stato molto veneziano e questa capacità di rendere la luce sull'elemento del tessuto dei materiali quindi diciamo Tiziano aveva già dentro di sé come parte della sua cultura pittorica questo grande maestro come Giovanni Bellini che aveva proprio questa capacità di rendere i tessuti un po' la fiamminga se vogliamo ecco nel raffronto che volevo riproporvi c'è questo questo tema del nudo femminile legato un po' al mondo classico che in qualche modo Raffaello per primo aveva esaltato nella sua grandezza questo è il trionfo della Galatea di Villa Farnesina a Roma che è una villa tutta dedicata alla mitologia dove trionfa questa ninfa quindi introduce questo tema mitologico Raffaello come sappiamo che sarà proprio la sua grande invenzione la sua grande come dire qualità quella di aver riportato nella pittura la grande mitologia ecco in questo confronto diretto tra questa venere di Tiziano e questa che è la Galatea della famosa Galatea di Villa Farnesina di Raffaello vediamo come Tiziano non può prescindere da questa grande emancipazione liberazione del corpo femminile che lui produce a Roma Raffaello si ispira molto alla scultura romana ma soprattutto a tutta quella pittura parietale romana dove questo tema dell'amore della nudità era un tema fortissimo però ecco per esempio dove laddove Raffaello esalta questo questo nudo femminile che però in qualche modo è un nudo olimpico c'è un nudo aulico un nudo molto molto letteralmente classico influenzato anche da Michelangelo infatti vediamo la muscolatura di questa figura in Tiziano inizia un nuovo corso della pittura un nuovo concetto della donna della nudità femminile perché in qualche modo la Venere di Tiziano è una donna morbida una donna il cui sguardo è importante notiamo le differenze perché lo sguardo di Raffaello delle donne di Raffaello sembra uno sguardo molto solare molto risolto molto olimpico appunto idealizzato invece qui guardiamo come questa figura di Venere di Tiziano che si poggia davvero sensualmente su questo sarcofago romano su questa fontana sarcofago in realtà guarda molto con uno sguardo molto languido molto carico di quel lidismo che abbiamo visto quindi Tiziano unisce la sensualità a una grandissima capacità poetica di rendere espressioni sentimenti che derivava in qualche modo da Giorgione sicuramente ecco quindi poi arriviamo a un altro confronto Tiziano Raffaello e abbiamo la flora di Tiziano degli Uffizi del 1515 è la mitologica in questo caso Fornarina nel 1519 attualmente nella Galleria Nazionale di Palazzo Barberini ecco qui vediamo questo confronto adesso si fa davvero stringente che seppur a destra Raffaello riusciva a comunicare quell'erotismo sicuramente implicito in questa figura seminuda con i seni nudi con questo gesto della mano che si fiore il seno quindi evidentemente di aduzioni sessuali però anche qui diciamo a sinistra questa figura che è stata identificata come una flora perché questa donna è in mano di nuovo questo mazzetto di fiori con un gesto che io trovo di una bellezza unica e unico nel panorama pittorico questa grandissima semplicità e spontaneità di rendere il senso del legame con la natura di avere in mano dei petali o delle foglie lo trovo un'invenzione di Tiziano veramente eccezionale guardate di nuovo anche qui la figura di Tiziano che cinge con la mano il suo corpo in una posta davvero sensuale appunto diciamolo però qual è la differenza è che mentre a destra Raffaello rappresenta una donna semplice serena appunto che ha un fisico ideale un fisico che in realtà risente di questa cultura classica michelangelesca anche se vogliamo invece in Tiziano la flora è una donna che inizia a essere una donna vera una donna che ha il suo sguardo che ha una come dire rispecchia anche un aspetto psicologico della figura in questione e soprattutto di come è vestita o svestita potremmo dire perché questa flora di Tiziano raffigura in realtà una donna discinta e questo è molto importante anche lo vedremo in seguito questo tema della donna discinta cioè la donna che ha addosso una camicia che scivola verso il basso mostrando i suoi seni è molto più sensuale della fornarina perché in realtà è quella quel vedo non vedo quella allusione quella quell'atto diciamo più come dire costruito per creare sensualità che sarà un po' la cifra stilistica di Tiziano ecco perché Tiziano inventa la sensualità nel senso moderno del termine perché è una sensualità più come dire costruita attorno a un concetto realistico domestico quindi che evoca un interno che evoca un luogo segreto un luogo intimo ecco questa è l'idea della sensualità Tizianesca rispetto a questo olimpico corpo quasi scolpito di Raffaello e questo vedo non vedo questa capacità di giocare con quello che si vede quello che non si vede rispetto al corpo femminile lo aveva già fatto Giorgione infatti questa era Laura di Giorgione nel 1506 conservata nel corso storico del Museo di Bienna che raffigura proprio questo questo citazione della natura come in Tiziano e questa 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 specie di vestito pelliccia che si apre casualmente o volutamente se vogliamo e mostrando questo seno bellissimo ecco questo tema della donna in qualche modo guardata osservata nella sua intimità inizia a essere un tema che diventa proprio una come dire un marchio di fabbrica di Tiziano per esempio ed è che in qualche modo cosa riferisce riferisce di un cambiamento culturale attenzione perché nella pittura niente è casuale riflette di un cambiamento epocale perché in realtà all'inizio del Cinquecento si abbandona quel culto della poesia petrarchesca che ancora incideva nel secolo precedente cioè il Quattrocento è ancora il secolo della donna angelica della donna spirituale della donna in qualche modo legata alla Vergine Maria invece qui con Tiziano con la pittura veneziana proprio che inizia con Tiziano cambia questo questo interesse è questa idea della donna se vogliamo perché per esempio il grande sponsor di Tiziano l'intellettuale che più amava Tiziano che più lo promuoveva nelle corti era Pietro Aretino che era famoso per essere un grande libertino per essere il grande teorico della sensualità della bellezza dell'erotismo perché quindi andava contro il concetto della donna angelica e che anzi esaltava il concetto dell'amore mondano dell'amore come fisico amore fisico amore come dire legato alla terra la materialità la bellezza della donna in quanto tale senza nessun rimando allegorico simbolico dottrinario qualcom'era stato nel secolo precedente e quindi Tiziano in questi due dipinti che sono appunto donna allo specchio del Louvre del 1515 e a destra la vanità stesso anno della alte pinacoteche di Monaco raffigura proprio questo concetto della vanitas quindi Tiziano si fa promotore esaltatore della vanitas famiglia quindi attenzione che non è più in qualche modo un concetto negativo sappiamo che fino al 400 la vanità era qualcosa di negativo perché distraeva l'uomo da Dio in realtà la sessualità la nudità quattrocentesca a parte alcuni episodi appunto di pittura mitologica era ancora come dire non era ancora accettata in maniera integrale in realtà Tiziano libera libera nella pittura in maniera totale questo concetto della vanità femminile e ne fa un'icona quindi il senso della bellezza e del riflesso di questa bellezza del guardare questa bellezza diventa un tema fondamentale per esempio nel dipinto di sinistra di questa donna allo specchio meravigliosa che si cinge questa chioma dorata bellissima c'è un aspetto importante che è lo specchio e questo specchio è proprio il simbolo della vanità ovvero di quel piacere di guardarsi e di essere guardata quindi questo guayerismo maschile che anche perché questi erano quasi diretti quasi esclusivamente anzi esclusivamente a committenza maschile indulgeva in questo in questo aspetto cioè della donna che doveva essere guardata nella sua bellezza fisica e che amava essere contemplata nella sua sensualità infatti guardate proprio dietro questa donna c'è un uomo che cinge addirittura due specchi con la sinistra tiene lo specchio dietro la figura per mostrare a lei stessa la parte posteriore della sua schiena bellissima e nella destra cinge uno specchio più piccolo per farle guardare il viso quindi guardate che invenzione incredibile che fattiziamo ed è veramente rivoluzionario perché c'è una tale dinamica di sensualità di erotismo di allusione di amore per la bellezza fino a se stessa che deve creare quel senso di erotismo e di intimità soprattutto perché tra l'altro evoca un luogo chiuso un luogo segreto un luogo dove la donna era nel suo ambiente domestico e come a destra in questo dipinto che appunto di Monaco intitolato esattamente Bambas vediamo questa figura femminile sempre discinta ecco di nuovo il tema della donna discinta di queste camicie che cadono sulle spalle mostrando sempre queste carni morbide bianche biancastre questa donna tiene in mano regge ecco uno specchio di nuovo il tema dello specchio e questo specchio cosa mostra? mostra dei gioielli mostra un interno mostra un interno intimo quello che poi verrà chiamato nel settecento il famoso boudoir quindi di un salottino di una di una camera da letto e infatti nello specchio in realtà se guardate bene c'è anche una figura femminile che in realtà non è altro che una inserbiente della stessa signora della dama poi un altro tema importante è quello che nella Venezia del Cinquecento c'era molta cortigianeria c'era anche molta prostituzione quindi questi uomini dell'elite che come dire in qualche modo ordinavano questi dipinti erano anche uomini di mondo quindi amavano frequentare cortigiane donne prostitute eccetera eccetera quindi il tema dell'amore carnale era molto forte a Venezia nel Cinquecento era famosa Venezia per essere una città del peccato tra virgolette dell'Eros ecco un confronto un'influenza scusate di questo elemento dello specchiarsi arriva addirittura Giovanni Bellini che come abbiamo visto era un po' diciamo il decano della pittura veneziana del Quattrocento che però arriva fino al Cinquecento a dipingere è molto prolifico vivi a lungo Giovanni Bellini e dipinge influenzato da Giorgione per il paesaggio come vedete alle spalle della donna che si specchia però è influenzato da questa nuova cultura della donna allo specchio e di nuovo guardate c'è uno specchio che mostra il retro della sua capigliatura e lo specchio più piccolo che mostra il suo viso quindi questo riflesso di giochi di sguardi era davvero dominante in questa cerchia di intellettuali di pittori della Venezia di inizio Cinquecento però ecco il nudo di Giovanni Bellini non ha niente a che vedere con questa emergente sessualità sensualità e sessualità dei nudi di Tiziano ecco io ho ancora legato altre immagini di questo periodo questo a sinistra c'è il dipinto di Tarquinio e Lucrezia 1515 sempre a Vienna mentre a destra Giovanni in pelliccia della Freak Collection di New York sempre 1515 quindi sono anni dove Tiziano parliamo della pittura profana chiaramente Tiziano era anche un grandissimo pittore di temi religiosi però nella pittura profana lui ha in qualche modo crea quello che è l'uomo e la donna del rinascimento veneziano quindi queste donne che hanno appunto sempre discinte con questi sguardi molto molto ispirati molto tra l'altro molto anche come dire in qualche modo di cui si ricerca l'aspetto emotivo di nuovo non sono donne idealizzate sono donne che di cui si indaga davvero l'espressività la psicologia la dolcezza anche perché non sono donne dominanti sono donne molto dolci molto ecco la cui morbidezza del corpo dello sguardo questa dolcezza estrema delle loro espressioni è proprio simbolo di una donna accogliente una donna che si presta a essere guardata che ama essere guardata infatti guardate dietro di lei la figura di Tarquinio ricorda quella dell'uomo con lo specchio quindi di questo senso di rapporto uomo-donna che diventa molto importante in questa pittura in questa cultura veneziana come dicevamo e per esempio questo giovane in pelliccia ci ricorda di nuovo questa grandissima pittura di Tiziano che riesce a rendere questi elementi dei materiali di tutte queste piccole variazioni cromatiche che tengono unite queste figure anche di un realismo diciamo del ritratto eccezionale tra l'altro la pittura veneziana rispetto a questi grandi maestri romani che lavoravano a Roma facevano di Roma l'epicentro del Rinascimento come Michelangelo e Raffaello avevano una cultura più nordica ricordiamoci Venezia quindi era molto legata anche a tutta la cultura fiamminga avevano una comunità di tedeschi soprattutto molto grande tra 400 e 500 quindi ecco in questi due dipinti vediamo proprio questo delineare queste fisionomie dell'uomo della donna dove la donna è sempre morbida accogliente e soprattutto è sempre discinta appunto è sempre pronta a mostrare le sue grazie mentre l'uomo è sempre trafinatissimo elegantissimo bellissimo dai tratti di questo realismo davvero eccezionale dove poi la parte diciamo stilistica più importante questa capacità appunto di questo grande maestro di rendere i toni del colore di fondere la massa pittorica in un insieme davvero di luce di colore eccezionali ecco arriviamo al grande tema del diciamo riprendiamo questo tema della 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 committenza maschile che voleva indulgere in questo senso di di guayerismo possiamo dire e arriviamo al ritratto di Alfonso d'Este questo è il ritratto di Alfonso d'Este che in qualche modo è il del del Prado che in qualche modo è il il primo grande signore diciamo potente committente che in qualche modo inizia a inserire Tiziano in queste in queste in questa pittura dei camerini cosa sono i camerini allora mentre il signore rinascimentale del Quattrocento aveva il suo studiolo quindi la cui parola allude allo studio alla lettura alla 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 conoscenza dei testi religiosi dei testi classici quindi era un intellettuale il signore rinascimentale del Quattrocento del Cinquecento passiamo dallo studiolo al camerino cos'è il camerino è proprio questo luogo intimo del del sovrano del appunto del signore della del del re che in qualche modo rifletteva la sua intimità il suo luogo intimo il suo luogo segreto quindi dalla figura di mecenate intellettuale pieno di grandi principi di grandi valori passiamo all'uomo guerriero l'uomo generale l'uomo capo di uno stato che vuole dilettarsi della nudità nel suo nel suo privato quindi passiamo appunto dallo studiolo come concetto di conoscenza al camerino come luogo dell'intimità sessuale e Alfonso d'Este aveva commissionato la pittura di questo camerino che si chiama camerino dall'abastro appunto da Ferrara nel palazzo Estense e aveva iniziato a chiamare pittori veneti per primo Giovanni Bellini che aveva iniziato infatti aveva realizzato solo uno di questi dipinti che è questo che è il fessino degli dei che è tra l'altro un dipinto che viene terminato da Tiziano quindi Tiziano come con Giorgione completa il dipinto anche di Giovanni Bellini in realtà questo dipinto era stato commissionato come baccanale perché appunto Alfonso d'Este voleva in realtà una serie di soggetti trafiguranti bacco i liti orgiastici baccanali in realtà Giovanni Bellini per sua cultura per sua formazione non riesce in qualche modo a riprodurre quel senso di sfrenata sensualità di sfrenato gioco delle figure tipico dei soggetti mitologici legati a bacco e quindi in qualche modo rimane questa composizione ancora tardo quattrocentesca molto calibrata molto devo dire fatta di figure ancora molto monumentali dove il colore sicuramente emerge come dato più interessante però questo sfondo bellissimo meraviglioso è appunto di un tonalismo che ormai si carica di colore di atmosfere di cromie molto più luminose molto più più variegate rispetto ai colori di Giorgione viene terminato viene completato da Tiziano e Tiziano in realtà crea realizza questo grande capolavoro che è il Baccanale degli Andri del Prado del 1523 conservato al Prado e che in realtà qui siamo davanti a in realtà al grande soggetto mitologico rivisto dal punto di vista della pittura veneziana quindi sicuramente con degli elementi di influenza Michelangelesca Raffaellesca però non possiamo negare che si tratta di nuovo di una composizione legata alla bellezza della pittura veneta e quello che emerge davvero in maniera molto molto forte è questo nudo sulla destra come vedete sulla destra nell'angolo a destra di questa ninfa ubriaca addormentata dopo aver bevuto il Nettare di Bacco e che è una delle più celebrate figure femminili della pittura dei soggetti mitologici del rinascimento tra l'altro questa donna che ha il viso arrossato dall'ubriachezza da questo stordimento dei sensi avrà un eco anche importante anche sulla pittura emiliana e tra l'altro la pittura emiliana è un'altra diciamo un'altra scuola pittorica che fa di questa emergente sensualità di questa dolcezza di questa grazia delle forme femminili un importante elemento stilistico questo è Correggio a destra questo è la venere e amore spiati da un satiro il soggetto sulla destra Correggio quindi il pittore Correggio dell'ouvre quindi di nuovo questo concetto anche in Correggio dello spiare del guardare il corpo femminile nella sua nudità nella sua piena sensualità e questa è davvero una differenza molto grande rispetto ai due grandi pittori del rinascimento fiorentino romano è proprio questo indulgere nella capacità di rendere questi corpi femminili fortemente erotici fortemente sensuali cosa che avviene anche per esempio in Dosso Dossi un altro protagonista della pittura emiliana in questo quadro che la figura panna è la ninfa del Getty Museum di Los Angeles 1524 dove di nuovo si riproduce quello stesso nudo disteso addormentato inebriato da questa esperienza di fusione con il Dio con la divinità e che rimanda di nuovo a questo elemento tizianesco a questo nudo tizianesco che era diventato celebre in questo baccanale altro grandissimo dipinto realizzato per il camerino dall'abastro quindi di Alfonso d'Este il bacco e Arianna che è un quadro conservato dalla National Gallery di Londra nel 1523 quindi siamo negli anni 20 e di nuovo qui vediamo degli elementi davvero di grandezza stilistica che rimarranno nella storia del rinascimento di nuovo questo paesaggio questo cielo meraviglioso va legato su queste tonalità del blu dell'azzurro questa capacità di rendere l'atmosfera delle nuvole dell'aria che sarà poi un tema perché la pittura veneziana e veneta in realtà poi fa da apripista a tutte le tematiche del barocco per esempio quindi il paesaggio veneto è il paesaggio che si imporrà nel 600 diventerà infatti nel 600 si parla proprio di paesaggio neoveneto e quindi questo paesaggio che è sempre come dire un riferimento sempre molto lirico molto poetico molto come dire molto emotivo è molto la figura quasi una una riflessione sulla natura molto molto profondo in Tiziano diventa un elemento vivo un elemento come dire cromaticamente molto più acceso come abbiamo già detto e soprattutto le figure di questo baccanale questo corteo di bacco che si muovono dietro il carro guidato dai giaguari e questo bacco che è una figura che nella sua vitalità nella sua forza plastica dinamica si addirittura sembra volare dal carro verso Arianna che in questo caso è stata abbandonata dall'eroe Teseo che quindi ancora scomposta da questo abbandono incontra il bacco che poi appunto diventerà la sua la sua amante e che lui poi tra l'altro trasformerà in una costellazione come citato nel dettaglio in alto quindi ecco per esempio questo corteo il corteo di bacco è davvero una libera liberissima interpretazione di queste figure classiche che appunto di nuovo come dire ricordano Raffaello ricordano Michelangelo ecco per esempio questo personaggio questo satiro questo fauno anzi che viene attorcigliato e morso da questi serpenti che ricorda anche il famoso Laoconte la scultura ellenistica del Laoconte in realtà poi risente ancora di queste influenze michelangelesche in questo dettaglio anatomico del nudo maschile in questa capacità di rendere ogni singolo muscolo che però in questo caso è cromaticamente fuso nell'insieme delle superfici rispetto all'aspetto scultorio di Michelangelo come non possiamo trascurare il fatto che questa capacità di rendere il movimento di immaginare una scena mitologica come poteva essere in realtà deriva da Raffaello grandissimo come abbiamo detto grandissimo artista della della mitologia infatti ho messo qui a confronto questi disegni molto belli la baccante con il baccante e fauno dell'Albertina a sinistra del 1516 Albertina di Vienna e il trionfo di barco in India dell'Albertina sempre di Vienna 1518 quindi questa capacità di rendere composizioni molto piene di figure di immagini di movimento di questo senso del dinamismo classico della appunto dell'idea di movimento delle figure è sicuramente una derivazione raffaellesca però ecco qui c'è un elemento da introdurre questi sono per esempio gli affreschi di Giulio Romano di Palazzo Tè a Mantova Giulio Romano era il più stretto collaboratore di Raffaello a Roma tant'è che lui realizza molte degli affreschi di Villa Farnesina che è tutta legata al tema della tema mitologico di anime psiche quindi un tema amoroso e Giulio Romano rappresenta proprio quell'erotismo quell'erotismo classico che veniva tra l'altro anche appunto anche a Mantova molto portato avanti dalla dalla pittura cioè Giulio Romano un po' è colui che rende la pittura raffaellesca quasi come dire quasi erotica perché tutte queste allusioni di corti nudi di satiri eccitati di donne come dire prestanti dai fisici morbidi e come dire disponibili a questi amplessi deriva proprio da Giulio Romano che è quello che in qualche modo crea nel nord Italia questa come dire questa tra virgolette pittura estremamente erotica che però ecco qui dobbiamo introdurre il concetto e la differenza tra erotismo e sensualità che laddove Giulio Romano è esplicitamente erotico esplicitamente come dire nella descrizione di queste figure ebbre piene di desiderio sessuale invece Tiziano è un pittore della sensualità quindi della capacità di rendere l'attrazione fisica un fatto anche psicologico e però c'è da dire anche che Giulio Romano in qualche modo riproduce comunque il nudo per come Raffaello lo aveva immaginato sempre un nudo idealizzato un nudo olimpico un nudo scultorio infatti è Giulio Romano forse l'erede più diretto della pittura di Tiziano quindi questa capacità questa questa fusione tra il lirismo giorgionesco del paesaggio della poesia della dell'umanità e di nuovo in qualche modo fusa da Tiziano con questo senso del corpo questo senso della sensualità però in una come dire in una cornice più profonda più sottile più complessa rispetto a questo esplicito erotismo degli allievi di Raffaello questo è l'ultimo dipinto per il camerino di Alfonso Leste che raffigura la festa degli Amorini conservata al Prado 1519 di nuovo una citazione di questo mondo raffaellesco dei Putti dell'Eros della popolazione di Venere del popolo di Venere ed è molto bello questo movimento incessante di queste figure infantili che volano si muovono in maniera molto molto dinamica quindi riprende un po' il tema che Tiziano in qualche modo romanizza la pittura veneta quindi trasforma questo placido questa placida contemplazione delle figure di Giorgione in una grandissima capacità di muovere le masse le figure in un movimento che davvero di impianto raffaellesco quindi di grande ispirazione a livello di di pittura infatti ecco vi ho messo qui un altro disegno di Raffaello che rappresenta la toletta di Venere British Museum 1514 dove di nuovo il tema della folla degli Amorini degli Eros è proprio una caratteristica che Tiziano prende da questo mondo mitologico che Raffaello più di tutti era riuscito a riportare nel mondo occidentale ecco momento fondamentale di passaggio tra questa citazione questa cultura anche romana se vogliamo di Tiziano e la Venere di Urbino degli Uffizi 1538 grandi differenze tra la Venere di Urbino la Venere dormiente di Dresda di nuovo questo bellissimo dettaglio della Venere che cinge questo mazzolino tra le mani io lo trovo squisito sempre come elemento di bellezza di poesia però questa è una Venere molto diversa da quella di Giorgione e soprattutto è diverso il contesto in cui questa Venere è stata collocata non siamo nella natura non siamo in un paesaggio non siamo in una fusione poetica con un mondo naturale lirico siamo in un interno siamo nella camera da letto di questa donna questa dama anche perché queste Veneri queste idee di Tiziano sono sembrano delle dame veneziane vere e proprie perché sono hanno sempre recano sempre dei dettagli della realtà quindi dei gioielli degli orecchini sono truccate hanno il rossetto il fondotinta insomma si vede che in qualche modo subiscono una resa molto realistica perché perché nell'immaginario maschile di colui che guardava l'opera aveva bisogno di una donna reale da guardare non di una dea lontana troppo idealizzata ma di una donna vera di una donna pronta a essere toccata a essere avvicinata infatti guardate questo letto in realtà è davvero un letto vero si vede il materasso si vedono le lenzuola questi cuscini messi un po' messi dietro la testa per rendere la figura più comoda quindi parliamo davvero di una citazione realistica di una scena realistica di una donna vera ancora più come dire ancora più realistico è il dettaglio sullo sfondo famosissimo dell'inserviente che viene aiutata dalla sua giovinetta a cercare degli abiti per la loro signora infatti aprono questo cassone dove venivano riposti tutti gli abiti della dama ecco è molto bello questa citazione di ambiente come è molto importante questo dettaglio del cagnolino cagnolino che può essere letto sia come come dire come simbolo di fedeltà o di come dire fedeltà a l'ideale uomo di questa venere oppure come elemento puramente realistico cioè Tiziano non aveva bisogno necessità di parlare di una venere astratta di una venere scultorea voleva mostrare una donna vera sul suo letto disfatto con il cagnolino il suo animale di compagnia e questo sfondo di vita domestica e questa è una grande rivoluzione perché questa venere domestica questa venere di casa era proprio per facilitare all'osservatore maschile questo senso di illusionismo erotico di illusionismo sessuale ti mostro una donna vera per soddisfare il tuo voglierismo ecco qui vediamo questi confronti sono molto stringenti dove la venere giorgionesca molto idealizzata molto anche geometrica se vogliamo di queste figure molto pure invece questa donna questa venere di Urbino è una donna che ti guarda languidamente negli occhi che ti invita alla fusione con lei nella fusione erotica nella fusione sensuale però è sensualità io parlo di sensualità non è il Giulio Romano dei fauni eccitati che abbiamo visto a Mantua è una molto delicata sensualità di sguardi di posture di dettagli appunto che fanno la seduzione la seduzione non è fatta di dettagli come per esempio questi bellissimi capelli che si avvolgono sulle sue spalle mostrando questo biondo bellissimo quindi è un'altissima pittura questa proprio perché riesce a comunicare realtà sensualità senza mai una citazione di questo erotismo classicheggiante esplicito di alcune pitture romane appunto come penso a quelle di Pompei ecco infatti volevo fare di nuovo un confronto con Giulio Romano guardate per esempio queste acopte di erosepsiche che giacciono su questo triclinio ecco è vero che c'è erotismo c'è nudità però è anche tutto molto classicheggiante cioè è una specie di riproduzione di un'idea classica quindi di elementi di arredo queste lenzuola che sono più come dei panneggi classici più che non ispirano un senso di domesticità di intimità sono come dire delle raffigurazioni ancora molto legate al senso classico che c'era in quell'epoca mentre Tiziano ecco qui introduciamo un elemento fondamentale per capire Tiziano arriva a questo concetto della Venere domestica quindi della Venere che in realtà è una donna vera una dama pronta a essere come dire a essere abbracciata dal suo amante e questi dettagli di intimità domestica Tiziano li prende essenzialmente da Carpaccio Carpaccio il grandissimo pittore del Quattrocento veneziano il grande maestro della Venezia del Quattrocento che in questo sogno di Sant'Orsola conservato alla grie dell'Accademia nella fine del Quattrocento mostra questa capacità dei pittori veneziani del Quattrocento di rendere di nuovo l'aspetto realistico di un interno guardate che è molto importante anche il fatto che per esempio queste lenzuola della Santa addormentata sono dello stesso colore della Venere di Tiziano quindi questa bicromia bianco-rosso lui la riprende anche questo riprende da Carpaccio però mentre appunto la Venere è su un letto sfatto allusivo di erotismo chiaramente la Sant'Orsola raffigura semplicemente un vero letto di una dama veneziana del Quattrocento ecco infatti vi metto a confronto un altro bellissimo dipinto di Carpaccio che appunto raffigura delle dame delle dame veneziane non identificate questo è un dipinto conservato al Museo Correr di Venezia di nuovo il dato diciamo realistico della donna della donna dell'epoca della dama che in Carpaccio sono queste dame che siedono su questa specie di terrazzino circondate da cagnolini animali domestici da piccoli elementi di moda di costume che sono quelli che poi riprende da Tiziano quindi questo senso dell'ambientazione domestica del riferimento alla realtà è una cosa che Tiziano riprende dalla sua cultura pittorica che era una cultura pittorica veneziana tipicamente veneziana e tra l'altro questo tema del cagnolino dell'animale domestico è proprio ripreso da Carpaccio infatti guardate la dama veneziana in primo piano del dipinto di Carpaccio gioca con il suo cagnolino di compagnia oltre a giocare con il cane l'altro cane che morde questa specie di rametto quindi questo piacere della verità dell'ambiente domestico questo piacere volevo dire della rappresentazione degli aspetti più veri della vita è tipicamente veneziana e Tiziano lo riproduce addirittura nella rappresentazione di una venere quindi dalla venere di Botticelli esteticamente esaltata nel suo aspetto letteralmente più classico alle rinfe raffaellesche che sembrano uscite fuori dalla Domus Aurea qui arriviamo alla domestica venere veneziana questo è l'elemento infatti ho messo per ulteriore approfondimento di quello che sto dicendo degli scorci di questi dipinti il sogno di Sant'Orsola e il Sant'Agostino nello studio della scuola di San Giorgio degli Schiavoni dove l'elemento fiammingo sicuramente del dettaglio della capacità di rendere il singolo elemento di realtà era fondamentale in questo tipo di arte guardate un altro elemento che io continuo a sottolineare la presenza dei cagnolini sia nel dipinto della Sant'Orsola dove c'è il cane ai piedi del letto sia nel Sant'Agostino di questo cagnolino che guarda verso il santo quindi questa veramente capacità di rendere la realtà degli interni che è proprio veneziana ecco qui poi arriviamo a questa pienezza della pittura di Tiziano nel saper raffigurare questo lusso questo senso della ricchezza anche delle sue figure femminili che era affrontata di nuovo con i dipinti di Raffaello questa è la velata la famosa velata del 1515 della Galleria Pallatina di Firenze e la confrontiamo con la stessa con il dipinto di Tiziano che si intitola La Bella semplicemente sempre conservato alla Galleria Pallatina di Firenze ecco qui diciamo di nuovo ritorna a quel concetto di differenza tra Raffaello e Michelangelo Raffaello che come dire di nuovo raffigura una donna olimpicamente serena molto piena nelle sue forme definite dal disegno invece dove Tiziano in questo comunicare il senso della sensualità della bellezza vera della bellezza oggettiva della bellezza corporale di questa donna indurge anche in questa capacità di rendere i dettagli del vestito dei gioielli guardate come risaltano questi orecchini questa lunga collana e soprattutto qual è la differenza che risalta? è l'uso del colore Tiziano riesce col colore magnificamente espresso in queste tonalità bellissime luminosissime a dare anche una sensazione di realtà di diretta emanazione diciamo dell'interno della situazione del personaggio che sta rappresentando arriviamo all'unico contatto che ha con Roma Tiziano Tiziano sappiamo che poi diventa presto il pittore ufficiale della Repubblica di Venezia e aveva già rinunciato a delle offerte che gli aveva proposto Leone X nei primi anni del Cinquecento di far parte dell'entourage romano infatti lui rifiuta perché lui si sente profondamente veneziano però si reca a Roma negli anni Quaranta dove realizza per Alessandro Farnese il nipote di Paolo III il Papa Paolo III questa meravigliosa Danae che fa parte poi di questi racconti mitologici dove la fusione fisica tra un dio e una ninfa inizia a diventare un tema molto importante molto sviluppato in questo caso è Zeus che si unisce a questa Danae questa figura femminile tramite questa pioggia dorata che scende sul corpo della figura ecco infatti questo che poi è forse uno degli apici dell'erotismo se vogliamo di Tiziano che alcuni dicono ispirato a Michelangelo nella postura della figura di questa Danae a gambe come dire raccolte e un po' aperte ad accogliere questa questa pioggia dorata diventa diventò subito una specie di elemento quasi di scandalo perché questa posizione esplicitamente pronta all'atto sessuale era come dire in qualche modo rappresentata nel pieno della sua evidenza però ecco un elemento che sicuramente ritorna di nuovo è questo senso dell'ambiente di nuovo abbiamo questa cortina che chiude lo sguardo quindi pronta ad essere chiusa e vediamo anche questo elemento sullo sfondo di questa enorme colonna che sembra alludere a una specie di terrazza dove questa Danae si è collocata che ricorda poi episodi architettonici di Tiziano di altri suoi dipinti questa Danae probabilmente viene anche ispirata da un'altra scandalosa Danae quella che dipinge Correggio qualche anno prima quindi non sappiamo bene che ha influenzato chi però anche questa Danae del Correggio che è appunto che accoglie tra le sue gambe questa pioggia che sta per scendere favorita dalla presenza di amore era un altro dipinto di questa sensualità di questo erotismo che ormai dominava in questa cultura veneto emiliana come in Tiziano anche qui c'è la presenza dei eros dei putti dei cupidi quindi di nuovo questo raffaellismo diciamo nella presenza della figura dell'eros come giovane alato ecco come dicevo questo elemento della colonna come sfondo riproduce quel senso maestoso dell'architettura di Tiziano quale si vede nella pala Pesaro della pala Pesaro del 1526 conservato nella basilica di Santa Maria gloriosa dei frari a Venezia quindi questo senso dello sfondo architettonico che sarà tipico della pittura veneziana ma anche dell'architettura veneziana questo gigantismo delle colonne fa parte di questo scenario quindi di un Tiziano anche molto interessato alle volumetrie architettoniche dei suoi dipinti ecco arriviamo all'altro grande committente di Tiziano è un altro committente che in qualche modo esprime questo interesse per questo intimo guairismo di questo privato culto dell'erotismo dei soggetti mitologici e questo è infatti Filippo II di Spagna rappresentato in armatura conservato nel Museo del Prado nel 1550 dove Tiziano inizia a entrare nella sfera dell'impero sia dell'impero di Carlo V e poi nel regno di Spagna attraverso Filippo II e lui su grande richiesta per questo grande successo barra scandalo di questa donna pronta a copulare con questa pioggia dorata lui riproduce la Dana infatti con un elemento diverso stilistico non abbiamo più il cupido raffaellesco abbiamo una figura di inserviente molto realistica tra l'altro dai tratti davvero molto foschi e perché adesso Tiziano nella metà del Cinquecento entra in una fase della sua pittura molto diversa perché inizia a incubirsi molto la pittura di Tiziano si passa da questi colori brillanti luminosi basici che aveva usato nella sua nella sua prima attività e nelle opere spagnole che appunto lui produce per Filippo II inizia a cambiare questo mondo diciamo di cromie di bellezza di una mitologia solare entriamo in un discorso un po' più complesso infatti guardate come i colori iniziano a diventare libidi a inscurirsi la trama pittorica stessa sembra più improntata a una come dire a una a una rarefazione più decisa rispetto a questa nitidezza che avevamo visto all'inizio però diciamo funziona questo soggetto della Dana e viene richiesto da Filippo II è motivo di grande interesse ed è una tappa poi fondamentale per Tiziano e poi anche Filippo II commissiona poi questi dipinti mitologici che Tiziano chiamerà poesie sempre per il suo camerino privato quindi di nuovo come Alfonso d'Este Filippo II ha bisogno di questo mondo intimo in cui lui celebra il suo attaccamento al mito come fonte di sensualità appunto di erotismo ecco quindi questa figura di inserviente anziana anche abrutita da questa da questi colori da questa intensa definizione del corpo invecchiato inizia a diventare motivo forse di riflessione per Tiziano perché in realtà negli anni 50 del 500 entriamo ufficialmente in quella fase che si chiama Magnilismo dove l'influenza poi della controriforma cattolica darà l'impulso a questi artisti in un ridimensionamento di determinate coordinate stilistiche della prima metà del 500 quindi il tema del corpo diventa più complesso più le riflessioni degli artisti si fanno più complesse di nuovo c'è una crisi diciamo dei valori del rinascimento che poi entrerà definitivamente in crisi per avviarsi al barocco ecco questo ho voluto poi inserire negli stessi anni un altro dipinto che era famoso per il suo riferimento erotico sempre tra l'accoppiamento tra Zeus e queste ninfe in questo caso è la Leda e il Cigno di Tintoretto il grande pittore emergente della seconda metà del 500 a Venezia questo è un dipinto conservato agli uffizi però come vedete a Venezia prevale sempre sia questo senso di donna in domestica cioè di una dama raffigurata nel suo boudoir appunto nella sua camera da letto nella sua intimità e però c'è sempre il tema dell'inserviente quindi questo tema della realtà domestica di nuovo come vedete gli animali domestici i pappagalli gli uccelli il cagnolino il gatto quindi questo senso dell'interno la pittura degli interni che è proprio una caratteristica che poi sarà molto importante nel 600 e la bellezza di queste donne di Tiziano questa giunonica bellezza quindi queste donne cariche di una volutà che come dire sicuramente molto morbida molto come dire piena di abbondante sessualità infatti influenzerà come abbiamo detto anche il secolo XVII infatti questo è Rubens nella venere allo specchio del Lichtenstein Museum nel 1613 riprenderà esattamente quest'altro capolavoro spagnolo tra virgolette di Tiziano che è la venere allo specchio venere allo specchio conservata alla National Gallery in Washington nel 1555 ecco qui diciamo il tema che avevamo introdotto all'inizio dello specchio quindi dell'osservazione della bellezza della sua di questa vanità no? di questo guardarsi dell'essere guardata e soprattutto questa allusione anche al lusso questo senso della cortigianeria sicuramente come se alla fine questi committenti questi grandi potenti questi sovrani questi signori in qualche modo volevano anche delle veneri che alludessero anche a delle figure di cortigiane quindi a volte sempre da questi tessuti lussuosi che dovevano in qualche modo appunto appagare quella quel senso di lusso di ricchezza di amore di erotismo che in qualche modo erano tutte collegate in questo senso quindi non c'è più quell'idealismo raffaellesco della citazione classica in quanto classica in quanto tale ma è questa definizione di una donna che deve essere guardata deve essere accogliente deve essere bella da vedere infatti questo che è un capolavoro assoluto di Tiziano questo specchio retto da questi amorini è davvero forse l'ultimo sussulto di questo mondo positivo e sensuale ed erotico che Tiziano aveva costruito per questi committenti di grandissimo livello politico questo è ancora un'altra opera spagnola Venere con Organista e Cupido e anche qui ritorna il tema della diciamo della collocazione di queste meneri queste meneri che sono sempre delle dame ingioiellate che devono riprodurre un senso di verità questo sfondo che poi è anche uno sfondo teatrale perché poi Tiziano in fondo gioca molto su questa idea della pittura come teatro perché pensiamo anche al mondo del teatro che in quel secolo si stava sviluppando attorno alle grandi corti quindi lui forse lui per primo rende moderna la pittura anche perché fa un riferimento esplicito a questa teatralità cioè questa capacità di costruire artificiosamente delle scene dei contesti dove le cortine le tende questi tessuti evocano anche questo senso di artificio se vogliamo e io trovo geniale questa opera che è sempre conservata al Prado perché per la prima volta vediamo un'associazione tra una venere tipicamente di Tiziano distesa su questo bellissimo brano di coperta di tessuto di questo rosso porpureo violetto bellissimo con dei riflessi di grandissimo realismo questo corpo che inizia anche ad essere un corpo iperrealista di cui si suggerisce addirittura gli aspetti appunto epidermici di risalto delle singole pieghe della pelle a voler sottolineare il realismo di questa nudità è molto interessante e molto bello è questo motivo dell'organista che addirittura siede sul letto della venere e si distrae dal suo dal suo suonare per guardare fissare il corpo di questa meravigliosa divinità questo io lo trovo ecco l'apice di quel gioco di sguardi che Tiziano aveva costruito a partire da questa figura con lo specchio con quest'uomo che la cinge e trova veramente un suo esito di una bellezza unica perché questo ragazzo che con ancora le mani sulla tastiera che si volta preso da questa volutà è davvero un capolavoro adaltro quest'uomo raffigurato in questo abito bellissimo curatissimo nei dettagli questa luce che riflette questi ocra questi colori Tiziano è il maestro del colore in assoluto lui riusciva con il colore a costruire dipinti di una grandissima qualità e bellezza e quindi questo sfondo che in questo caso è un giardino molto bello come idea che è di nuovo questo senso della terrazza dove questa donna si stende questa vista verso questo giardino dove una coppia passeggia e questo bellissimo rapimento del giovane verso questa donna distratta dal suo cupido molto bella ecco un altro capolavoro del periodo spagnolo Venere e Adone sempre conservato al Prado 1553 qui iniziamo nella trama tragica del racconto mitologico perché adesso Tiziano racconta la mitologia non più nel senso della come dire della celebrazione dinamica vitale sensuale del mondo classico però il soggetto mitologico diventa un soggetto che parla della tragicità dell'esistenza quindi del dolore dell'esistenza dell'amore anche come fonte di sofferenza quindi passiamo dalla contemplazione erotica guayeristica del camerino a una rappresentazione che forse vogliamo è più esistenziale più filosofica infatti questa è la venere che viene colta nella partenza di Adone il pastore di cui lui si era innamorata che decide di andare di abbandonarla di andare a caccia dove lui troverà appunto la morte quindi in qualche modo questo soggetto questo paesaggio che è sempre poetico che è sempre diciamo ispirato a questo senso di natura come sfondo dell'amore della bellezza della sensualità diventa però poi il luogo della morte il luogo della tragedia e questo è anche un motivo teatrale quindi la teatralità del racconto mitologico che arriva a questo senso della fine della tragedia infatti questo bellissimo nudo della Venere di Tiziano che poi viene riprodotto in varie copie poi non altro è che ripreso dal Raffaello di Villa Farnesina è riprodotto anche da Correggio nel suo dipinto di Io e Giove Io posseduto da Giove in forma di nuvola del Cusistroices di Vienna quindi questi modelli di femminilità che giravano in queste corti della pittura del Nord Italia trovavano io trovo che siano state come dire al meglio rappresentate da Tiziano e da Correggio non a caso i maestri dell'arte mitologica di quel tempo di quel periodo però come vedete potete guardare la progressione tra queste figure ancora monumentali molto classiche molto impostate a questa sensualità dei corpi di Tiziano e di Correggio ecco ultime opere che vi mostro sono delle opere che hanno davvero una loro enigmaticità perché sono davvero contro tutto quello che Tiziano in qualche modo aveva espresso fino a quel momento questa è Diana e Arteone cioè Diana sulla destra la dea della luna la dea lunare che viene scoperta per caso da questo cacciatore da Arteone che purtroppo si imbatte in questa visione per la quale verrà poi fatto divorare fatto trasformare in cervo dalla dea Diana e fatto divorare dai suoi cani quindi di nuovo questo elemento del tragico che emerge adesso nei dipinti mitologici però qui non possiamo fare altro che ammirare la capacità di Tiziano di nuovo molto teatrale di rendere questo scenario di bagno di queste donne nude di queste donne appunto discinte o anche questi dettagli davvero realistici per esempio questa dea lunare che viene come dire assistita da due sue ancelle dove una di queste ancelle è una donna di colore quindi un'allusione a questo mondo a questo nuovo mondo che emergeva nella Spagna di fine Cinquecento e tutti questi dettagli questo scenario di un'antica fontana in rovina questa fontana classica questo senso dell'acqua questo senso dello stupore della vergogna delle donne che sono guardate da Teone quindi cosa succede? Qui c'è il rovesciamento dello sguardo quindi mentre prima Tiziano favoriva questo sguardo dell'uomo questo sguardo insistentemente voluttuoso sul corpo della donna adesso la donna inizia diciamo in questa visione dell'episodio mitologico rifiuta lo sguardo quindi come se la donna diventa non più un soggetto passivo un soggetto guardato addirittura con un intento guairistico ma diventa quasi la dominante di questo rapporto quindi si rovescia il rapporto tra donna passiva uomo attivo ma è la donna che prende adesso diventa la dea tragica la dea maligna che in qualche modo punisce lo sguardo maschile è davvero interessantissimo questo e fa capire l'intensità poetica di questa pittura che lui Tiziano riesce a uscire dal canone mitologico classico per entrare in una riflessione teatrale della vita quindi questa donna che all'inizio era doveva essere sempre pronta a questo sguardo a questa volutà a questa disponibilità che si nega e si nega soprattutto lo sguardo quindi rovescia questo tema dell'essere guardata desiderata ecco questi sono alcuni dettagli che vi volevo mostrare molto belli come per esempio a sinistra questa cortina che è tipica di Tiziano di costruire questi scenari fatti di panneggi di tende di cortine che devono sempre in qualche modo alludere all'ambiente domestico però in questo caso sono questa ninfa che viene scoperta anch'essa da Teone si cerca di coprirsi di chiudere lo sguardo di azione questo è un po' il simbolo di cui stavamo parlando però guardate di nuovo in questo dettaglio centrale molto bello questa raffigurazione di questo rilievo classico un po' come l'amor sacro e l'amor profano abbiamo visto il tema dello specchio quindi di questo specchio che però guardate interessante viene abbassato viene tenuto basso come se in quel momento la vanitas non è più l'elemento più importante non è più questo rispecchiamento ma il tema è l'occultamento quindi passiamo dall'essere guardati all'occultamento di questo sguardo e finiamo con questo dettaglio della dea Diana che viene anche lei guardate si copre immediatamente quindi non c'è più quella complicità di sguardi riflessi che Tiziano aveva portato avanti ecco ultimissime opere questa è la Diana e Callisto che parla la figura l'episodio di una delle ancelle sempre della dea Diana della dea Lunare che era una dea cacciatrice che viene scoperta essere gravida per colpa di Zeus e viene punita dalla dea Diana quindi c'è di nuovo un concetto di punizione un concetto di negazione dell'Eros che non viene più celebrato quindi è davvero un bloccare quel processo di esaltazione della bellezza come Eros inizia un po' questo tema più tragico più complesso più come dire tipicamente manierista della crisi del corpo della crisi del rinascimento della crisi di tante certezze che colpiscono anche Tiziano e lo vediamo anche in questo paesaggio davvero molto più cupo più in questi corpi molto lividi molto come dire che non esprimono più quella accoglienza quella sensualità ecco qui vediamo un altro di questo dipinto del 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 periodo spagnolo questa è la è la morte di di Atteone che della National Gallery di Londra ecco vediamo proprio la fine l'essere divorato l'episodio dell'essere divorato dei cani quindi di questa specie di di Nemesi dello dello sguardo maschile che nell'ultima fase della pittura di Tiziano viene come dire annientato dalla sua stessa come dire dalla sua stessa volutà dal suo stesso desiderio quindi questa dea Diana che prende il posto di Venere che diventa la dea punitiva la dea punitiva dell'eros la dea punitiva dell'esaltazione dell'erotismo tra l'altro ecco ancora qui abbiamo il ritratto del dipinto del ratto di Europa dove questa donna viene quasi rapita contro la sua volontà Zeus che appunto sotto forma di bue rapisce Europa e c'è di nuovo il senso tragico di questo rapimento di questa di questa come dire di questa tragedia che colpisce questa donna in maniera ineluttabile quindi il racconto mitologico nella sua asprezza anche stilistica diventa proprio il simbolo di questa di questo cambiamento di cultura di pittura che vive Tiziano negli ultimi anni ecco chiudiamo con questo dipinto il Venere che venda Amore della Galleria Borghese di Roma del 1565 e guardate che cosa è molto bello questo 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 soggetto guardate che questa Venere ora è vestita non è non è più allusiva di un di un erotismo non è allusiva di una disponibilità ad essere guardata non è soprattutto più disponibile ad essere un simbolo sessuale quindi diventa una Dea come dire pacificata con questo senso di 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 allusione all'Eros e che venda Amore che quindi cerca di ridurre quella forza straordinaria che Eros ci porta nella vita che sconvolge tante volte la nostra vita e che quindi va tenuto sotto controllo tra l'altro questo putto che ha le spalle di Venere e non è altro che Anteros che è il fratello di Eros che è stato proprio creato dagli dei per rappresentare l'amore maturo nel senso che se l'amore vuole essere vissuto fino in fondo e non rimanere un colpo di fulmine o una una saetta come quella che che tira che tira Cupido va fatto crescere infatti mentre Eros è condannato a rimanere bambino per sempre Anteros è colui che crescerà diventerà un uomo e questa è una bellissima metafora finale di Tiziano sulla riflessione del tema mitologico sul tema dell'amore sul tema della sessualità sul tema della donna dove la stessa donna si riappropria anche di quella capacità di negarsi allo sguardo di negarsi all'uomo e di ritrovare anche un senso della capacità di equilibrio nei sentimenti nell'amore nella tenuta come dire di questo grande sentimento esplosivo che è Eros che viene in questo caso vendato e trattenuto dalla madre tra le sue gambe io mi fermo qui spero sia stato di vostro interesse vi rimando alla conferenza sul Caravaggio e vi saluto caramente grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.